Sui regionali noi stiamo investendo ormai da qualche anno in modo molto forte, se voi guardate il trasporto regionale e prendete i ROC, i POC, ecco che parliamo, adesso abbiamo i Blues, parliamo anche sul regionale di tanti treni assolutamente nuovi, quindi più del 60% della frotta regionale è già stato rinnovato e nel giro di due anni arriveremo all'80%, quindi tanti investimenti. Ma un'altra cosa importante è che oltre alla cooperazione insieme a VB, anche noi come Trenitalia stiamo investendo sui treni notti, avremo anche noi delle carrozze completamente nuove che per esempio collegoranno Milano e Siracusa, Milano e Palermo, quindi l'idea è aumentare e migliorare la qualità del servizio notti, perché è un servizio che sta avendo moltissimo successo, la domanda è veramente enorme.